ehi volevi ciao a tutti amici che fanno oggi oggi siamo su le risposte al hashtag fuck come ci sono davide zifo il pinguino e mia sorella che sembra un panda morto ok ragazzi oggi andremo a rispondere con il telefono di questo elemento qui che si è messo nel bar di spacciatore di provincia ok vai lui legge io rispondo ok sono pronto vai se vuoi il pinguino cosa ne pensi di Gesù Cristo? si è Gesù Cristo è una magnifica persona a mia moglie vuoi commentare la sua risposta? no allora scrivi la seconda è Twinkle ciao a Twinkle vuoi fare dei gorghini con un casco di banane? aspetta! ho il pene duro come non�bolo ecco oh come si ce il muro comunque non ci tendo a fare i bambini con un casco di banane però vabbè andiamo avanti could you drive the pizza oh 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 could you drive the pizza dagli! la cosa è nata? Watt Punchisi ciao vittorio e gatti uccisi è nato da dds paro 7 quello che conosci molto bene vittorio ok andiamo avanti ho 14 anni e sono alto un metro e 75 sembra no scherzo sei un grande mazzo chi è la tua bionda preferita ovviamente tu giulia sono io davvero tu fuori ma gina ha veramente tredetti ragazzi questo è un mistero che dovremmo ancora risolvere e risolvere domani mattina ripeti la domanda adesso vi spiego la situazione ma gina ha veramente tredetti allora ragazzi questa famosa gina è mia nonna e lei presume di avere tre denti ma in realtà non è vero perché ne ha z no fino a poco tempo fa ragazzi ne aveva 6 adesso ne ha 5 perché se ne ha levato uno e lei presume ancora di avere tre denti cioè io non lo so ragazzi però un giorno me la farò conoscere un video con lei ragazzi ragazzi la promessa accendo iscritti farò il video con mia nonna con la bocca aperta no no accendo iscritti faccio il video con mia nonna ok ragazzi abbiamo ritrovato altre domande vai legge ciao sono gina per caso ragazzi poi vi spero che cosa dice mia nonna comunque si sono un diavolo mm ciao ciao marco mi chiamo baieto cosa ne pensi di merdazi vediamo il gay e l'amico di moletto aspetta ragazzi adesso voglio sapere chi è nel tazzo Montolivo e il chiesa è veramente quello che cambia il bambino. Allora ragazzi, Roazzi mi è piaciuta solamente la seconda canzone, se devo dire la tutta, tutto molto interessante quella e là. Sapete di salivarmi! Poi chi era? Montolivo fai pena d'arte all'Impica. Oppure vanno a giocare a calcetto fai il palo della botta. Oh, si può chiamare! Oppure chi era poi? Chi era? Dai tu mi fai il palo della roba! Ah, non voglio parlare di quello! Ho capito! Non voglio parlare di quello lì! Comunque... Io? Parlaci di Nianche! Devo dire che Nianche è un nero di merda, ovviamente non offendiamo tutti nero. Ma lui è l'unico nero di nero. Ecco! Poi altre domande? Sì! Ero per il caso! Cioè ci sono più domande volte che quelle... E parlaci anche del ritorno di Barbo Alcaieri. Allora stavo a fare una... Barbo Alcaieri ce lo vedo! Però stavo a fare una diretta di calcio oppure un palco perché non sto capendo niente. Ok! Ti metto in alcun'altra! Mi è scesa la fattanza? No! Ragazzi buongiorno! Ok ragazzi questo fuck è concluso! Ne porterò altri a 5 like, ne porterò altri! C'è una nuova domanda! Dai entroci! La domanda è... C'è una nuova domanda! Ragazzi la domanda è... C'è una nuova domanda! Ok ragazzi! Lasciamo stare! A 5 like potrò un altro... Un altro pack! Tanti! Dove... Dove... Farò altre cose! E... Lasciatemi sotto nei commenti qualcosa! Tipo commentate a cazzo di cani! E... Iscrivetevi se non l'avetevi guardato! E io! E io! E io! E io! Ciao! Ciao!